I fashion trends più amati dai milanesi di oggi sono gli stessi di un tempo? Scopriamolo! Qual è il trend di moda che più le piaceva da giovane? Sicuramente le gonne lunghe, pantaloni larghi, debustiere, un po' oversight come adesso. Cosa ne pensate di questo trend? Penso che sia molto classico, molto retro. Invece qual è un trend del momento che vi piace di più? Un po' di vestiti? Sì, di cargo. Cosa ne pensate di questo trend del momento? Questi sono i pantaloni in cargo, questi si chiamano, sono cari mio figlio che ha 11 anni, ce ne sono solo quelli. Qual era un trend che andava di moda quando era giovane lei? La moda dei paninari, quindi con il Montclair, con le Timberland quelle alte, il jeans a vita alta. Cosa ne pensate di questo trend che andava di moda negli anni 70? A me piace, sembra molto un po' il bomber, un po' Montclair, mi fa ricordare a Montclair come marchio. Invece qual è un trend di adesso che ti piace? Mi piace molto quel tipo di stile, anche molto i colori, anche che sia tornato anche il stile, cioè tutti i print, tipo li oppradati, print animali. Cosa ne pensate di questo trend che sta andando di moda al momento? Bellissimo, molto, ok. E qual era un trend che andava di moda quando eravate giovani? Quando ero io giovane è quello. E anche penso anche nella mia generazione, andava molto. Ciao. 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 Grazie a tutti.